Considerazioni sull'Europa In Europa è dappertutto, non è forse lo stesso? Non si sono trasformate in un triste miraggio tutte le forze unificatrici nelle quali speravamo anche noi? La discregazione di laggiù non è forse peggiore dell'isolazionismo? Ecco una domanda alla quale nessun russo può sfuggire e quale russo poi non pensa all'Europa. Già, in apparenza le cose vanno meglio laggiù che da noi. Forse si vedono meglio le cause storiche del fenomeno. Forse questo è anche più scoraggiante. Chissà se ci si renderà conto finalmente che questa dispersione non serve a niente. A proposito, da noi ora tutti parlano di pace. Tutti predicono una pace lunga, duratura. Tutti vedono l'orizzonte sereno, con nuove alleanze e nuove forze. Anche nel fatto che a Parigi si è instaurata la Repubblica si vuol vedere un segno di pace. Perfino in questa Repubblica, fabbricata da Bismarck, si è individuata la pace. Nell'intesa delle grandi potenze orientali si vedono incrollabili basi di pace. E certi nostri giornali sono giunti a scorgere nel caos dell'Herzegovina, causa di tanti timori e gli indizi di solidità della pace europea. Forse perché la chiave della questione dell'Herzegovina è anch'essa a Berlino, nella cassetta del Principe di Bismarck. Ma generalmente tutti da noi sono felici della Repubblica Francese. E come mai la Franza è ancora in primo piano in Europa e non lo è invece la Germania che la sconfitta? Il più piccolo avvenimento in Franza suscita in Europa molto più interesse che non un grande avvenimento berlinese. Quel paese è sempre stato la patria degli esperimenti e dei collaudi di idee. Ecco perché tutti si aspettano di là il principio della fine. Chi farà quel primo passo fatale se non la Francia? Ecco perché forse in quel paese d'avanguardia si sono concretate le peggiori forme di isolazionismo. Salutando la Repubblica Francese, tutti in Europa hanno affermato che essa è necessaria per la Francia e per il continente. Che sotto di essa non sarà possibile la revanche contro la Germania. Che soltanto la Repubblica, fra tutti i governi che pretendevano direggere le sorti della Francia, non avrebbe rischiato quella guerra. Eppure tutto questo è illusione. E la Repubblica è proprio proclamata per la guerra, se non con la Germania, con un rivale assai più pericoloso, nemico dell'Europa intera. Il comunismo, che ora con la Repubblica risorge assai più forte. Ogni altro governo potrebbe accordarsi col comunismo. La Repubblica invece non gli cederà e lo costringerà alla lotta. Non si dica dunque che la Repubblica vuol dire pazze. E in fondo che ha sostenuto la Repubblica. La borghesia e i piccoli possidenti. Da molto tempo essi sono diventati repubblicani. Loro, che prima in essa, vedevano un passo verso il loro spauracchio, il comunismo. La Convenzione, durante la Prima Rivoluzione, ha frazionato in Francia le grandi proprietà degli emigrati e della Chiesa, vendendola per far fronte alla crisi finanziaria. Così la borghesia si è arricchita e ha potuto pagare, in 80 anni, 5 miliardi di debiti di guerra, senza battercilio. Ma favorendo un benessere temporaneo, questo ha paralizzato per un tempo assai lungo le aspirazioni democratiche, aumentando smisuratamente la classe dei possidenti, e gettando la Francia nelle braccia della borghesia, prima nemica del demos. Senza questa soluzione, la borghesia non avrebbe mai potuto governare la Francia in sostituzione della nobiltà. Per questo, il demos e la borghesia si odiano senza speranza. Lo spirito di gruppo giunse a un tal punto che l'intero organismo statale ne fu distrutto, e se la Francia sta ancora in piedi, è soltanto perché un pugno di neve non può sciogliersi prima del tempo prestabilito. I borghesi, e con loro molti ingenui del continente, continuano a scambiare questo fantasma dell'interezza nazionale per una forza viva dell'organismo. In realtà, la coesione nazionale è scomparsa definitivamente. Le oligarchie vedono soltanto l'interesse dei ricchi, e le democrazie quelle dei poveri. Del bene comune nessuno si cura, se non forse i sognatori socialisti, e i positivisti che si attendono tutto dalla scienza, e sperano in una nuova coesione basata sul comunismo. Ma non mi pare che dalla scienza si debba attendere tutto. È difficile che essa si accordi con la natura umana al punto voluto. È forse essa pronta ad assumere subito la sua parte? Essa sarà invece forse la prima a non rispondere all'appello. E allora pare evidente che il movimento democratico in Franza, e in tutto il mondo, è governato per ora dai sognatori, i quali a loro volta sono governati dagli speculatori. Una cosa terribile è comunque che accanto a questo idealismo sia apparso un brutale arrivismo. Il popolo non sogna che la spogliazione dei possidenti, e non si può dargli torto, perché esso è stato tenuto talmente all'oscuro dalle oligarchie da credere ingermamente che questa spogliazione possa arricchirlo, e di questo parlano continuamente i suoi tribuni. Eppure vinceranno loro, e se i ricchi non cederanno al momento opportuno, è forse perché il tempo dei cedimenti è passato. Gli stessi poveri non accetteranno dal resto nessun compromesso e crederanno sempre di essere imbrogliati. Di buona parte li sono mantenuti perché sbaglieravano sempre la possibilità di un accordo col popolo. Le oligarchie non si fidavano più di loro, e il popolo non li stimava affatto. In quanto i governi monarchici, essi potevano opporre al popolo, come via di salvezza, unicamente la fede romano-cattolica, e non soltanto il popolo, ma la grande maggioranza in Francia non sente affatto. La famiglia Orleans è diventata odiosa in tutta la borghesia. Esiste una legge politica, e forse anche naturale, secondo la quale due forti vicini, anche se sono amici, aspirano sempre a distruggersi reciprocamente, e presto o tardi porranno questa aspirazione in effetto. Di questa legge dovremmo preoccuparsi anche noi russi. I possidenti francesi hanno sempre avuto paura che dalla Repubblica Rossa fosse facile passare al comunismo. Effettivamente, se non c'è niente che sia più vicino alla Repubblica Rossa del comunismo, non c'è anche niente di diametralmente opposto al comunismo della Repubblica, anche se è quella sanguinosa del 93. Nella Repubblica esiste prima di tutto la forma repubblicana, che sia la Mac Mauniana invece della Francia poco importa. Basta che si chiami Repubblica. Ecco in cosa consiste l'attuale vittoria dei repubblicani in Francia. In realtà la Repubblica è la più naturale espressione della borghesia, la quale è figlia e creazione esclusiva della Prima Rivoluzione. Si dirà che la guerra è ancora lontana? Forse non tanto. Non conviene forse nemmeno ritardare il momento della soluzione. Già ora il socialismo arroso l'Europa e se si aspetta ancora la roderà fino alle radici. Il principe di Bismarck lo sa, ma da buon tedesco spera nel ferro e nel fuoco. Ma cosa si può fare col ferro e col fuoco? La forza morta e le forze in cammino. Mi si dirà che in questo momento non c'è nessuna ragione di preoccuparsi. Tutto è chiaro. In Francia la Mac Maunia. In Oriente la grande intesa delle potenze. I bilanci militari aumentano dappertutto. Quindi deve esserci la pace. E il Papa? Se non oggi, domani egli può morire. E allora che cosa avverrà? Potrà il cattolicesimo ormano accettare di morire con lui per tenergli in compagnia? Mai esso ha desiderato di vivere come adesso. La questione del Papa oramai non si pone più. È stata resa nulla dai nuovi profeti. Questo isolamento è comunque troppo grande, troppo pieno di ispirazioni, perché accetti di rinunciare ad esso in nome della pace del mondo. Perché dovrebbe rinunciare? Per l'umanità. Ma questa società isolata pone se stessa molto più in alto dell'umanità. Finora, essa si è tenuta accanto ai potenti del mondo e ha sperato in essi fino all'ultimo momento. Ma questo momento, a quanto sembra, è arrivato e la Chiesa Cattolica dovrà senz'altro abbandonare i sovrani terreni i quali, del resto, l'avevano già tradita da molto tempo e hanno aizzato tutta l'Europa contro di lei. Essa ha saputo fare anche altre volte degli abilissimi voltafazza. Nella Chiesa c'è una forza enorme che ha risuscitato l'antica idea romana della potenza mondiale. Ho parlato una volta di tutto questo, ma lo feci di sfuggita in un romanzo. E si è perdonata la mia presunzione. Ma io sono certo che in un modo o nell'altro il Cattolicesimo si appoggerà alle democrazie abbandonando i potenti di questo mondo per punirli di averlo essi stessi abbandonato. E che cosa importa? Tutto questo avviene laggiù, in Europa, non da noi. Anzi, sarà l'Europa che verrà a picchiare alla nostra porta quando avrà bisogno del nostro aiuto e che lo reclamerà da noi dicendoci che noi siamo pure l'Europa e che dobbiamo avere lo stesso ordine. Che non per nulla abbiamo fatto gli europei per 200 anni e che salvando l'Europa salveremo noi stessi. Saranno poi le nostre forze proporzionate a tale compito? Se davvero l'Europa si rivolgerà a noi forse allora capiremo per la prima volta fino a che punto noi non somigliavamo all'Europa nonostante i nostri sogni di occidentalizzazione che si traducevano per noi in slanzi appassionati. Oppura non capiremo nemmeno allora perché sarà troppo tardi e se sarà così non potremo efficacemente aiutarla. E chissà se invece non saremo noi a soccorrerla e a sottomettere il nemico dell'Europa e del suo ordine usando il ferro e il fuoco come il principe di Bismarck. Oh, se questo dovesse avverarsi potremmo crederci dei veri europei. Ma tutto questo è in un futuro lontano. Tutte queste sono fantasie. Ora tutto è chiaro e sereno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti